Bentornati e bentornate qui su Eller Channel. Oggi video haul e se non avete ancora capito dal titolo video haul in collaborazione con Rosgal che è un sito di quelli asiatici, vedremo insieme che cosa vi hanno mandato e se vale la pena o no. Ho delle cose molto contrastanti da dirvi, per cui se siete curiosi ovviamente non vi rimane che guardare il video, ma prima vi chiedo un like di supporto per il canale, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un mega bacio e aspettarvi dopo la sigla. Oh, allora, bentornati e bentornate. Oggi video haul in collaborazione con Rosgal. Sapete che ho già collaborato con questa azienda, mi sono sempre trovata abbastanza bene, tranne per le taglie, perché avevo preso dei vestiti che, essendo dimagrita così tanto, ovviamente non mi andavano bene. Questa volta però ho preso delle cose e sono rimasta un po' delusa, nel senso che tra quello che avevo capito dalla descrizione, dalla qualità, dalla fotografia e quello che mi è arrivato c'è tanta differenza. Per alcune cose tanta differenza in negativo, per alcune cose tanta differenza in positivo, per cui praticamente non vedevo l'ora di fare questo video per farvi vedere tutto. Allora, innanzitutto mi hanno dato un budget, credo, di 100 dollari, quindi siamo più o meno intorno a quella cifra e vi faccio vedere tutte le cose che mi sono arrivate per quella cifra, insomma. Pensavo di aver preso una cosa in più, ma in realtà non era nel carrello, quindi ero rimasta un po' male quando non era arrivata, poi sono andata a controllare e effettivamente non l'avevo messa nel carrello io. Allora, prima cosa, ed è un nì, potrebbe essere un sì, ma devo dire che è un nì, devo dirvi che è un nì, è questa maglia. Allora, questa maglia, aspettate che metto dietro i capelli e vi faccio vedere com'è il taglio della... Allora, questa maglia mi piace moltissimo, è molto carina, adesso mi alzo così ve la faccio vedere. Ha la taschina qua davanti ed è così, sotto al pigiama. Vabbè, fa niente. Quindi ha le taschine qua davanti, ha lo scollo a barchetta, potete tenerlo su, ma in realtà a me piace un po' più, io ovviamente sotto ancora purtroppo il contenitivo. Scusatemi, però vabbè, è così, oramai lo sapete, è inutile che io vi dica altre cose, comunque lo copriamo con i capelli. Vedete a cosa servono le station? Non solo ad essere belle, ma anche a coprire piccoli difetti, insomma. Di ogni cosa, Eller fa virtù, sappiatelo. Per cui, praticamente, questa magliettina, allora, questa magliettina l'hanno messa loro nel carrello, perché a fronte di una spesa, credo, di, insomma, nel carrello, loro vi fanno un regalo che voi potete scegliere. In questo caso c'era questa magliettina, c'erano anche altre cose, però io ho scelto questa. Pensavo fosse una felpa, per quello che la promuovo come me, nel senso che io pensavo fosse una felpa. Non è una felpa, è una maglietta, il tessuto è molto, molto leggero, ma sapete cosa? Mi piace tantissimo! Cioè, mi piace veramente tanto, mi piace come cade, mi piace la morbidezza, mi piace come sta, e soprattutto mi piace che non è arrivata che puzzava. In realtà, questa è per me la prima cosa che guardo dei siti quando mi spediscono la roba a casa, se puzzano, mi piace. Sia che arrivino da Amazon, sia che arrivino da qualcun altro, mi interessa. Invece questa era proprio bella, sembrava quasi uscita, non dico dalla lavatrice, però più o meno. E' molto morbida, sicuramente è molto facile, non si stropiccia, l'ho già portata in valigia perché volevo provarla nei set, eccetera, non si stropiccia per niente. E' molto molto carina, io sinceramente la consiglio. Non so quanto costa perché appunto a me l'hanno messa dentro in omaggio con tutto il carrello. Altra cosa molto carina che però mi aspettavo diversa, quindi devo dire nì perché me l'aspettavo diversa, ma devo dire assolutamente sì perché è meravigliosa questa sciarpina. Ne avevo già presa una rosa che però vi avevo detto è molto delicata ed era una sciarpa tipo plaid. Allora anche questa è tipo plaid, però questa è praticamente solo questo, cioè è proprio un triangolo, quindi non è quadrato che poi dovete farlo a triangolo, ma è proprio un triangolo un po' grande e voi potete fare tanti triangoli piccoli come di solito faccio io e poi la metto ovviamente attorno al collo. È leggermente più pesante dell'altra, la tonalità è sempre grigia e rosa, però qua c'è prevalenza di grigio, nell'altra c'era prevalenza di rosa e poi ha queste frangettine che sono comunque molto carine. La piegate così, io la piego e la tengo anche in borsetta quando, vedete, è troppo carina veramente, quando praticamente vado agli eventi e non so se metterla sciarpa o meno perché magari voglio far vedere una collana o cose così, però me la tengo sempre, cioè nel senso la metto quando esco e poi la tengo tranquillamente in borsetta finché non riesco e la rimetto. È veramente super comoda, è morbidissima, guardate che carina, è morbidissima e almeno con i miei colori, con i colori del mio armadio si sposa praticamente con tutto, per cui assolutamente insomma promossa. Questa, ripeto, me l'aspettavo molto diversa, però anche questa è molto molto promossa, diciamo che le notte dolenti ve le lascio alla fine. Poi ho preso un altro di questi, questi li avevo presi nel primo, vediamo se riesco a farveli, eccoli, allora li avevo presi, è un set di bracciali, cioè questo qua, è tutto lo stesso set e costa più o meno 1,50 euro, credo. Di solito sono quelli con cui riempio il carrello quando sono alla fine e devo finire il budget. Questo qua col cuoricino, questo qua con la stellina e quest'ultimo che ha praticamente la stella e la luna però con gli sbralusenti. Allora, questi qua li sto adorando, come vedete, questi qua ce li ho da tre mesi, credo, forse, sì sì, forse anche di più di tre mesi, e sono ancora perfettamente dello stesso colore degli altri che sono ancora incartati. Li ho lasciati incartati questi perché li voglio regalare a mio nipote, così ce li abbiamo uguali. E niente, sono troppo carini raga, veramente, ma troppo belli, per 2 euro è proprio molto molto carino questo set, mi piace veramente tanto, poi se avete il polso piccolino come il mio veramente si sposano tanto, lo fanno molto molto fine e danno tanta luce. A me, per me questi sono promossi, ovviamente presi e me li aspettavo così e sono arrivati ovviamente così ma li conoscevo già. Poi ho deciso di prendere due collanine, anche queste rispetto a quello che mi aspettavo sono diverse, ma anche queste devo dire mi piacciono di più così rispetto che quello che avevo pensato vedendole dal sito. Allora, anche qua, ripeto, non so se si anneriscono subito o meno, non mi è dato saperlo finché non le uso. Adesso si sono annodate e sono cavoli miei, uffa. Una è questa, con il cuoricino. E una è questa, con tutti i pallini. Allora, la cosa che mi piace tantissimo e che non avevo capito è che sono proprio molto girocollo, cioè non sono collane lunghe. Vi faccio vedere, le metto. Vedete? Cioè, è bellissima! È bellissima, l'adoro. Adesso, appunto, la tengo, la terrò su. E anche questa col cuoricino è sempre molto girocollo. Anche queste sono più o meno intorno a un euro in R20. Eccole qua. Esatto. Ovviamente, questa è un pochettino più lunga. E niente, a me piacciono molto, per cui mi sento di dire che sono molto belle. Sono anche la maglia, non è leggerissima come normalmente sono questo tipo di catenine. Io di solito prendo quelle di Primark. O quelle, per me, o quelle d'oro, o quelle cheapissime, proprio le più, cioè le proprie più cheap che esistono. E quelle più cheap che esistono, di solito le prendo da Primark. Però Primark, tipo, o... Ecco. Primark, tipo, un mese e mezzo e diventa nere. Ma c'è di peggio, perché ho preso delle collanine a 7,90€, per cui 8€, non 1,50€, come quelle di Primark. E mi sono diventate nere il giorno stesso. E le ho prese da H&M. Quindi, raga, veramente, peggio di quello non esiste, almeno non per me. Mi auguro che queste non diventino subito nere, comunque sono molto carine. Mi piacciono veramente. Soprattutto questa mi piace tantissimo, non me l'aspettavo che era così. Poi, ho preso due borse. Non che io non abbia borse, ho tantissime borse. Soprattutto quelle di Pomikaki, che tutti quanti su Instagram mi dite, ah, di chi è quella borsa? È di Pomikaki, che è un brand che sto usando ultimamente. E seguitemi in Instagram, perché io lì vi metto tutto, ma anche su 21 Buttons, perché vi faccio vedere tutto tramite le foto, eccetera. Ma queste borse le ho prese per via di due stivali. Uno stivale è quello altissimo rosso, che tutti adorate. Sempre nelle foto di Instagram lo potete trovare, ma soprattutto ve l'ho fatto vedere anche nell'aul di Zara, qua sul canale. E però non avevo una borsa che si intonasse a quegli stivali. E ho visto questa e non poteva non essere mia. Cioè, raga, cosa non è bella sta borsa. Con i due manici rotondi in stile Chloe. Con la catena con cui la potete tenere. È lunghissima questa catena, è anche abbastanza pesante, per cui è corposa. La borsa è leggerissima, che anche questo è un vantaggio. È molto capiente, fatta veramente bene. Ovviamente è un po' geldu qua, raga, perché comunque si tratta di una specie di ecopelle molto molto cheap e si capisce. Però il pello è morbidissimo, cioè è morbido da fare in video ai capotti di Zara. Ed è fatta veramente bene. Costa, non lo so, però penso che... Allora, sul sito di Rosgal trovate sempre un sacco di sconti. E se siete tagliati, ve li potete anche cumulare. Per cui credo che con lo sconto, che si trovava fino a qualche tempo fa, costasse 15 euro. Ma al massimo vi costa 20 euro. E secondo me li vale tutti, perché è veramente bella. Tra l'altro, questa catena ha il gancio. Qua è il doppio gancio, in realtà. Esatto. E quindi la potete anche mettere doppia. Vale a dire che voi fate passare... Vi faccio vedere, eh. Fate passare i due lembi... Cioè, un lembo da una parte e i due ganci della catena li agganciate nel gancio che c'è qua. E quindi questa vi rimane come catena doppia. E io normalmente la uso così. Allora, questa l'ho presa per abbinarla appunto agli stivali quelli rossi, quelli altissimi, che sono appunto di questa tonalità qua, di questo arancione qua. Di questo rosso mattone, arancione, chiamatelo un po' come volete. E poi ne ho presa un'altra per abbinarla agli stivali blu. Che io ho un paio di stivali, di stivaletti, che sono sulle tonalità del blu, grigio e nero. E quindi praticamente ho preso questa, che poi si va anche a sposare con tutte le volte che utilizzo dei cappotti in stile nude, eccetera. La sto usando tantissimo, raga. Infatti spero che non mi si rompa, perché ovviamente non si tratta di borse di altissima qualità. Si tratta comunque di borsette da 20 euro. Però è bellissima, ci sono andata un sacco di venti, mi piace proprio tanto, è morbida, è comoda da portare in giro. Appunto la puoi mettere a tracolla. Io la porto spesso a mano con questo e la catena che scende, che è veramente super chiccosa. Mi piace veramente tantissimo. Quindi queste due borse sono le due super promosse di tutto l'all, perché veramente sono splendide, ma proprio belle, belle, belle. Arriviamo alle notte dolenti. Avevo fatto anche dei sondaggi, perché vi avevo chiesto se, secondo voi, dovevo prendere la giacca rosa oppure quella gotica. Il sondaggio ha vinto quella gotica e ho preso infatti quella gotica. Però c'è un però. E adesso vediamo insieme. E innanzitutto la taglia, perché a me se robe mi vanno enormi. Per cui questa, probabilmente come gli altri vestiti sempre di Rosga, lì dovrò dar via. E mi spiace perché sono cose nuove e mi piacerebbe un po' sfruttarle, magari anche per qualche foto. Però anche se fosse solo per le foto, cioè queste cose mi stanno enormi. La giacca è così. E il tessuto, quindi davanti corta e dietro lunga. Con questi bottoni meravigliosi davanti. Vediamo se riesco a farli vedere. Spero di... ecco, esatto. E con la cerniera, ovviamente. Adesso provo a indossarla, così me la vedete indosso. Allora, bisogna stirarla bene. Non è malvagissima, nel senso che comunque qua dietro anche la cosa lunga mi piace molto. La manica a tre quarti. Non è brutta, anzi assolutamente, cioè è proprio carina come giacchettina. È che questo tessuto così leggero e questo, come si dice, questo fatto che non è completamente, cioè nel senso... Cioè qua è proprio... manca tanto qua. Le spalle sono magari giuste, no? Un pochettino larghe, ma diciamo meno sbagliate rispetto che la vita. La vita è molto... cioè... E quindi giustamente non cade perfettamente, vedete? Cioè cade abbastanza bene, ma non è perfetta. Idem le maniche. Che nonostante siano molto carine a tre quarti. Però ecco, non sono proprio... Il massimo. Comunque, vabbè, questa diciamo che rimane un nì a metà tra il sì e il no. Magari riuscirò a sfruttarla durante il prossimo set, vedremo, insomma. Però non è... cioè, non è il massimo. Si vede che è una roba molto, molto cheap. Io me l'aspettavo un pochettino più corposa, un pochettino più giacca. E invece è proprio il tessuto della camicia. Cioè è più una camicia che una giacca. Però purtroppo non ti veste da camicia. Questo è quanto. Quindi, un po' così. La nota dolente stavolta arriva dal cappotto. Io ve l'avevo detto che volevo questo cappotto gotico, di cui mi ero innamorata. E vi metto, se la trovo, mi metto qua la foto. La foto del cappotto che avevo ordinato, che pensavo di aver ordinato. E mi è arrivata, adesso mi tolgo questo così vi faccio vedere il cappotto. E raga, mi è arrivato il cappotto del tessuto della camicia. Cioè questo è un vestito, non un cappotto. Ok, bellissimo, un bel colletto, belli bottoni, doppio petto, quello che volete. Ma questo è un vestito, non un cappotto. Manica a palloncino, manica con il doppio bottone. Ma vedete che il tessuto è proprio una camicia. Io spero che si veda in camera, secondo me si vede. Ma nelle foto non era assolutamente così. Cioè non me l'aspettavo così proprio. Sennò non l'avrei preso, perché io volevo un cappotto nero. E quindi non avrei preso questo, avrei preso probabilmente altre cose. Magari col pelo, o non so, un teddy coat, oppure un camel coat. C'erano tante cose. Però questo mi aveva ispirato, perché effettivamente sembra un cappotto gotico. A me piace molto lo stile gotico, per cui mi era piaciuto come stile. E invece no, praticamente è come se fosse un vestito. Meno di un vestito, è proprio una camicia. È il tessuto di una camicia. Lo indosso così ve lo faccio vedere. Allora, un po' grande. Vedete, le spalle sono meravigliose. Le maniche sono un po' lunghe. Un po' grande. Guardate la vita, è così, no? Bello anche l'effetto del... Ovviamente va un po' messo giù perché mi sta largo, per cui non riesce ad aminarsi. Bello l'effetto, dovrebbe stare così. E invece, ovviamente lo vedete, cioè è proprio molto largo. Manca tutto sto pezzo qua. Cioè, manca proprio tanto. Qui ha le tasche, che sono molto molto carine. Davanti è più corto. Non posso farvelo vedere. Comunque, davanti è più corto. E dietro arriva fino ai piedi. Davanti, il più corto, praticamente, fino alla fine, rimane con i bottoni. Adesso mi siedo. Allora. Come soprabito. Nel senso, no, sarebbe un abito da mettere sopra un abito. Cioè, capite cosa vi voglio dire. Vedete, anche il colletto è molto bello. Chiuso rimane così, proprio molto stile militare. Ecco, molto, molto serio, molto... Mi piace molto, guarda. Comunque, è molto bello come taglio. Mi piace molto come disegno. Effettivamente, corrisponde a livello, diciamo, estetico a quello che c'era sul sito. Ma, a livello di materiale, proprio per niente. Perché uno non è che può mettersi un vestito sopra un vestito. Almeno, non è neanche del materiale dello spolverino o del blazer. Cioè, no. È proprio, sembra proprio una camicia. Cioè, il materiale di una camicia è cotone. Cioè, tipo cotone. E quindi, è come mettersi un vestito sopra un vestito. Per cui, questo qua, sinceramente, nonostante sia veramente molto carino, anche se mi sta un po' largo. Però, o lo riciclo come vestito. E nel senso, magari me lo metterò, me lo faccio stringere in vita. E me lo metterò un pochettino come vestito gotico per uscire. Oppure, come cappotto, assolutamente no. Ma, proprio no, no, no. Questo è proprio un no completo, come cappotto. Ragazzi, io cosa vi posso dire? Ah, ecco cosa vi posso dire. Dogana si arriva. E io l'ho pagata. Ho dovuto pagare la Dogana. Non so adesso se l'azienda me la rimborsa o meno, dato che comunque sto lavorando per loro. Però, non credo che la rimborsino ai clienti. Non lo so. Dovete andare a vedere nelle regole questa domanda. Non saprei rispondere. Però qualcuno me l'aveva fatta nello scorso video, per cui mi sembra giusto dirlo. Le cose mi sono arrivate in pacchi separati e credo proprio per una questione di Dogana, nel senso di far arrivare un pacco alla volta in modo tale che magari ad alcuni non viene applicata la Dogana e viene applicata solo ad altri e quindi la Dogana risulta essere minore. E arrivano veramente in poco tempo. Una cosa molto buona è che tutte le cose vi arrivano in pacchettini separati e sigillati, tipo negozio comunque di, non dico di lusso, però insomma negozio di buona qualità. Quindi non arrivano sporchi, non arrivano puzzolenti, insomma arrivano intonsi e belli piegati bene. E che altro dirvi? Questa è stata la mia esperienza. Se avete qualunque genere di domande su questo sito, ovviamente fatemele sapere qui sotto, nella parte relativa ai commenti e soprattutto fatemi sapere qual è il capo che preferite, cioè quello che secondo voi è più bello. In effetti a guardare questo qua mi spiace tantissimo che non posso usarlo come cappotto perché è proprio bello, cioè è proprio bello, bello. Ma magari cosa ne dite? Con un total black sotto i leggings e questo lo uso un po' come vestito spolverino, secondo voi può andare? Magari è anche solo semplicemente aperto perché è proprio bello, mi piace proprio tanto, però non è un cappotto. Vabbè, fatemi sapere qual è il vostro capo preferito qui sotto e lasciate anche un piccolo cuore così io saprò che avete visto il video fino a qua. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti 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 like di supporto che a me servono tantissimo per indicizzare il video e soprattutto per far crescere questa meravigliosa community che mi sta veramente sostenendo tantissimo. Ragazzi io in ogni video vi ringrazierò perché in uno dei periodi più bui, che purtroppo non è ancora finito, ma in uno dei periodi più bui di tutta la mia vita voi avete veramente acceso migliaia di piccole luci e sto cercando veramente di farmi venire in mente un modo per potervi ringraziare con tutto il cuore. Voi non avete idea di quanto quello che avete fatto, chi in modo più discreto, chi in modo più plateale, ma quanto quello che voi avete fatto per me sia stato di valore, veramente, e mi abbia aiutato a superare col sorriso un momento veramente pessimo. Quindi io vi ringrazio veramente con tutto il cuore, ma credetemi con tutto il mio cuore e con tutto quello che io posso avere per ringraziarvi. Vi mando il solito mega mega bacio e tantissimi Grazie.